Filippo e Morris la mamma smette da papà e io non vi capisco e poi specialmente tu Filippo e le sigarette non te le merito che cosa acconti Filippo e Morris? non ho l'investito buongiorno buongiorno dicca dicca sigarette valvoro la gomma niente di tutto questo ma il mio mestine sono un venditore e mi scusi semplice busta da lettera e franco bollo facciamo alla faccia di whatsapp spediscono la lettera a un amico a franco? no a peppino ma a te c'è capo con franco fammi capire non ci sta manco la private se uno vuole spedirci fate i tuoi no a peppino